Sì, grazie Presidente. Buon pomeriggio a tutti. Io rimango sempre basito da questi interventi, di fatto privi di contenuti perché non danno un'alternativa a quello che questa amministrazione ha presentato, ma semplicemente gettare delle critiche senza essere di fatto costruttive. Noi abbiamo invece voluto porre le basi per creare un'azienda solida, per creare un piano di materiali post-consumo e noi da qui siamo partiti, da questo termine che abbiamo cambiato, dal termine rifiuti, quell'oggetto che viene gettato in discarica o nell'incineritore, oggi noi lo chiamiamo materiale post-consumo perché per noi è una risorsa, non è un rifiuto, non è un qualcosa che noi gettiamo e che abbandoniamo e che va nell'oceano e che inquina il nostro pianeta e la nostra madre terra. Abbiamo creato un progetto, soprattutto un piano trennale, perché chiaramente è un piano abbastanza complesso, perciò dopo un anno e mezzo abbiamo elaborato questo piano molto approfondito che vede la creazione di un'impiantistica serie, di un'impiantistica efficiente per i materiali di riciclo. E non puntiamo invece su quell'impiantistica che oggi non ricicla i materiali post-consumo ma di fatto li manda nelle discariche e negli incineritori come CDR. Questo perché noi vogliamo dare una nuova rotta alla nostra città, alla nostra politica sull'ambiente, una politica in cui crediamo fermamente perché siamo convinti che quando parliamo di materiali di post-consumo possiamo parlare di futuro, possiamo parlare di sostenibilità, cosa che ad oggi non è stata fatta. Partendo da Malagrotta, arrivando poi ai due TMB, Salare e Rocca Sciencia. Sì, sono ridondante, ma bisogna sottolinearlo sempre. Le passate amministrazioni non ci hanno lasciato un'impiantistica seria per riciclare i materiali di post-consumo e per creare nuove risorse. Noi lo stiamo facendo, stiamo gettando le basi per dei progetti sui due impianti di compostaggio aerobico, per un impianto del multimateriale e anche per una raccolta differenziata puntuale e capillare. Abbiamo iniziato da Ostia, da un municipio difficile e complicato e subito dopo siamo passati al quartiere chettebraico che ha all'incirca 8.000 abitanti e dopo poco tempo, dopo una settimana, la percentuale di raccolta differenziata è arrivata al 75%. Questo vuol dire che arrivare anche all'85% di raccolta differenziata in pochissimo tempo è un segnale estremamente positivo. Vuol dire che la strada che abbiamo calcato è la strada giusta. E anche grazie alla tecnologia, perché io vedo che in lista c'è anche un altro ordine del giorno che parla appunto dei mastelli, dei cassonetti taggati, noi siamo arrivati anche a fare questo in pochissimo tempo. Perché vedete l'azienda che noi stiamo creando è un'azienda con una governance, con un management competente che sa di cosa si parla. Quando si parla di materia post-consumo bisogna avere coscienza e anche conoscenza della materia. e non soltanto mettere lì dirigenti o direttori messi dai partiti che fanno ciò che i partiti dicono. Noi abbiamo messo dei professionisti e in questo ci crediamo fermamente. Perciò noi voteremo contrario a quest'ordine del giorno e vogliamo rassicurare l'opposizione che questa maggioranza finalmente sta cambiando rotta e sta creando una società solita e duratura. Grazie.